Vi siete mai chiesti come sono creati i suoni nei film? Non sono proprio registrati, anche perché non c'è verso di tornare indietro nel tempo con una macchina del tempo per registrare il suono di un T-Rex. Infatti questo è stato creato in un modo totalmente diverso che vi sorprenderà. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e iniziamo subito con questo video. Numero 10. Stefan Fratticelli Ecco, Stefan Fratticelli, uno dei migliori esperti del suono al mondo. Vive in Canada ed è una persona fortunata con un lavoro che tutti invidiano, ma ha un orecchio molto attento, una grande immaginazione e lavora come sound designer creando molti suoni realistici usando però elementi improvvisati. In più di 15 anni il suo studio di registrazione, oddio studio, ha lavorato a numerosi film, serie e videogiochi, tra cui anche Silent Hill, 500 giorni d'estate, Il lato positivo e Prison Break. Ma ascoltare Stefan non è così interessante come vederlo lavorare, questo mago del suono. Ha un account su Instagram dove pubblica regolarmente nuovi video con una varietà di effetti sonori, per esempio Stefan mangia delle carote per imitare il suono di un cavallo e massica, diciamo, il cavolo con lo stesso piacere di uno zombie che ha trovato la sua cena. Nello studio di registrazione puoi trovare molti accessori diversi che vengono utilizzati nei modi più inaspettati. Pettinare una parrucca con un pennello? Beh, perché no? O toccare con l'unghia la ruota di una bicicletta? Anche. Ci piace particolarmente il volto di Stefan in tutti questi video. Come fa a rimanere così serio mentre fa queste cavolate? Numero 9. L'uomo d'acciaio. Cosa pensi di dover sentire? O secondo te cosa pensi che gli spettatori debbano sentire al cinema quando gli eleganti stivali rossi di Superman che al pestano il ghiaccio coperto di neve? Beh, non togliere le scarpe invernali e i cubetti di ghiaccio dal frigorifero. Una comune sabbia e stivali ordinari ai piedi di un esperto del suono sono, diciamo, già abbastanza e un'idea che sembra assurda ma credeteci, mentre guardi il film sicuramente non terai alcuna differenza. In realtà la sabbia è un grande amico del famoso Cripognano durante tutto il film. Ad esempio per creare il suono per il suo epico atterraggio devi solo versare questa sabbia su una piccola valigia vuota e poi, diciamo, colpirla con una mazza da baseball con tutta la forza che hai. Bang! E poi ancora bam! E una spolverata di sabbia sulle porta superiore. Siamo molto interessati, diciamo, a come questo sound designer ha trovato una soluzione così interessante per quando Superman debba atterrare. E insomma, chissà quante valigie avrà provato a distruggere prima di arrivare a questo suono ma probabilmente questo rimbarrà un segreto professionale. Fare il suo volo, invece, è ancora più facile. Ha solo bisogno di far svolazzare un pezzo di tessuto adatto davanti a un microfono preferibilmente uno a fazzoletto rosso. Numero 8. Lo Hobbit Sai come registrare il suono di una folla in preda al panico? Beh, spesso utilizzano in molti film di grandi produzioni una cosa molto speciale. Se stiamo parlando di un blockbuster hollywoodiano allora ci sarà necessariamente una folla di persone spaventate realmente che si allontana dal pericolo urlando. In The Hobbit, però, abbiamo trovato una scena del genere e si scopre, però, che per registrare le urla dei residenti spaventati della città di Vail diciamo che fuggivano da Smog sono stati invitati i parenti e gli amici delle persone che lavoravano al film e a nostro modesto parere hanno fatto un ottimo lavoro specialmente questo ragazzo che muove le braccia. È difficile immaginare cosa pensassero gli abitanti del posto quando hanno sentito queste urla strazianti in una solleggiata giornata estiva. Tuttavia, sono probabilmente abituati perché, diciamo, tutti e sei i film dell'universo di Tolkien sono stati girati in Nuova Zelanda. Dopo questo, molto probabilmente non saranno affatto sorpresi nemmeno da un cliente con orecchie appuntite o da un gruppo di orchi che si abbronzano al sole. Numero 7, Signore degli Anelli Ad essere onesti, non siamo sicuri se questi ragazzi siano stati realmente coinvolti nella creazione della famosa trilogia di Peter Jackson ma sono comunque riusciti a ricreare il suono di una delle scene della Compagnia dell'Anello. Forse il regista dovrebbe, diciamo, invitarli e ingaggiarli, questi artisti di talento, per il suo prossimo film specialmente visto che non solo sono due persone che hanno fatto un ottimo lavoro ma hanno ricreato tutti gli effetti insieme e li hanno registrati in una sola volta. Lo scriccolio della carta, il suono delle orme poi anche lo scriccolio appena udibile del tessuto tutto fu ricreato, anche un suono apparentemente semplice come quello del colpetto sulla spalla e tutto questo fu sorprendentemente sincronizzato insieme perfettamente. Se questi ragazzi erano notatori esperti hanno anche sicuramente una sorta di medaglia olimpica e anche se l'umanità non ha ancora inventato uno sport simile alla scricchiolanza della carta in sincronia con un volto serio è bello vedere la gioia della magia del cinema in azione e non stiamo parlando degli scherzi di Gandalf. Numero 5, Marco Costanzo un altro vero professionista Marco ha lavorato su tantissimi film famosi cartoni animati e serie tv e avremmo bisogno di un intero video per includerli tutti. Se sei interessato puoi guardare su internet cosa ha creato e avrai molte ore di divertimento. Marco può usare le foglie per farti credere che una strega cattiva stia facendo stregoneria oppure colpire il terreno con due noci di cocco per imitare un vero cavallo. Piuttosto strano ma come puoi vedere è geniale e quando c'è uno scontro sullo schermo e un personaggio colpisce la testa di un altro personaggio contro un muro di metallo beh, questo accade sempre per queste situazioni infatti Marco porta una scatola di ferro con sé e un rotolo di nastro e chi avrebbe mai pensato che questi materiali suonassero esattamente come una testa umana che viene sbattuta rivedutamente contro un muro? Ma non raccomandiamo ai nostri spettatori di verificare la somiglianza di questo suono a casa. In tutta la serie dei film di X-Man Wolverine tira sempre fuori un tiro di artigli di Adamantio dai suoi pugni per devastare chiunque osi fermarlo. Gli appassionati di fumenti sanno che i suoi artigli fanno un suono tipo snikt sulle pagine ma nel film il sound designer di X-Man Craig Breaky ha usato il suono di un coltello estratto da una guiana mescolato al suono di una carcassa di pollo o tacchino mentre questo veniva diviso. Per il suono degli artigli essenzialmente c'erano due elementi principali su cui stavo lavorando ha detto Breaky a Gizmodo uno era il suono della lama metallica mentre entra o esce l'altro invece era il suono fisico reale di qualcosa che attraversava la carne e si ritraeva. Numero 4 Psycho Insieme alla brillante colonna sonora di Bernard Herrmann uno dei motivi per cui l'iconica scena della doccia di Psycho è così terrificante è il suo sound design. Anche se in realtà non vedi la signora Beats affettare Marion carne puoi sentire ogni pugnalata che entra nel suo corpo. Alfred Hitchcock ha raggiunto questo obiettivo pugnalando attraverso i numerobili meloni per trovare quello perfetto per la scena. In uno studio di registrazione il poliziotto Bob Bone ha fatto un'addizione ai meloni per Hitchcock che appunto stava ascoltando attentamente ad occhi chiusi scrive Stefan Rebello in Alfred Hitchcock The Making of Psycho. Quando il tavolo era pieno di frutta tritata Hitchcock aprì gli occhi e intonò semplicemente Casaba. Numero 3 Star Trek Sebbene la serie abbia avuto il suo inizio in televisione Star Trek ha fatto una grande impressione sul grande schermo con 12 o almeno quasi 13 film in franchising. Uno dei suoni più riconoscibili dell'intera serie di film è il suono della propulsione a curvatura. Per il reboot di Star Trek del 2009 il regista J.J. Abrams ha arruolato Ben Barth per creare nuovi suoni per tutto il set del USS Enterprise pur omaggiando l'originale. Il suono originale della propulsione a curvatura era un suono molto musicale che saliva e scendeva di tono con tutti i tipi di ronzio e distorsioni possibili ed è stato senza dubbio prodotto con un oscillatore che attraversava una camera di riverbero a piastra. Barth però ha detto che volevo tornare a quell'idea musicale e ottenere qualcosa con un sentimento emotivo così ho riprodotto quel suono esattamente allo stesso modo in modo analogico usando un oscillatore degli anni 60 che era una volta nel dipartimento di fisica della mia vecchia scuola ossia l'Allengan College. Sono tornato lì e in realtà ho trovato quell'oscillatore in un semitrato poi l'ho portato con me per usarlo proprio per registrare il suono per questo film. Considerando che sarebbe praticamente impossibile riprendere con precisione i suoni degli animali vissuti oltre 65 milioni di anni fa diciamo non avendo a disposizione appunto una macchina del tempo il sound design di Jurassic Park Gary Raidstorm doveva diventare diciamo piuttosto creativo con il ruggito iconico del T-Rex rallentò quindi vari rumori animali dallo strillo di un elefantino al gorgoglio di un alligatore al ringhio di una tigre per dare vita al T-Rex il suono del re o della regina per così dire del respiro dei dinosauri era proprio il suono dell'aria che sfuggiva allo sfiatatoio di una balena Raidstorm ha anche usato il suo piccolo Jack Russell Terrier booster per creare il suono di un affamato T-Rex che quindi uccide un Gillimus in fuga numero 1 Star Wars di cosa hai bisogno per riprodurre il suono del piccolo BB-8 che scorre nel deserto beh hai bisogno veramente della sabbia e anche di una palla da discoteca beh non è uno scherzo perché è proprio così che è stato creato il suono che può essere ascoltato nel film Star Wars il risveglio della forza la cosa principale è ruotare la palla alla giusta velocità il che non sembra essere un problema per gli aspetti del suono mentre però stai immaginando dei droidi da discoteca ad una festa intragalattica ti riveleremo il segreto del suono speciale che accompagna ogni mossa degli Stormtroopers a parte forse il più più che non uccide mai nessuno è stato creato da questa ragazza che è la responsabile appunto per il suono creato con l'aiuto di un casco da motociclista pattini e rotelle e una giacca in perle metti tutto insieme lo scuoti un po' e la colonna sonora è pronta per la prossima parte della saga spaziale sì ragazzi erano 10 esempi di come sono creati i suoni dei nostri film preferiti il video vi è piaciuto e vi ha sorpreso lasciate un mi piace se è così e inoltre a 15 meno mi piace vi porterò un altro diciamo video in cui vi mostro altri segreti del mondo del cinema inoltre non perdetevi il mio libro che uscirà il 26 aprile potete vedere il video dedicato al libro sul mio canale iscrivetevi se siete nuovi al canale non dimenticatevi di seguire QB Now e Infinity Now e ci vediamo alla prossima come on ciao